Martedì ci troviamo qua sul comunale di Atessa per il torneo Il Monello di calcio giovanile. Da questo lato c'è i ragazzi della Virtus Castelfrentano, categoria giovanissimi, con la tenuta, la seconda divisa ufficiale, bianca, con i risvolti giallorossi, calzettoni bianchi, qua il gruppo che partirà dal primo minuto, il gruppo dei titolari, qua c'è il mister Giulio, Giulio Di Giovanni, si comincia la gara in ritardo in quanto c'è stato un forte temporale con grandine, fulmini, acqua, a balloni come si dice. Qua abbiamo Daniel, qua abbiamo Alex Mammarella, in fondo c'è Gabriele, c'è Diego. Là in fondo c'è la squadra avversaria, è la Virtus Lanciano 1924. Mi ha fatto piacere di vedere Federico Tucci, che fino all'anno scorso stava con noi. Sono contento di averlo rivisto, sarei più contento di rivederlo con la maglia giallorossa. Qua c'è la Virtus Lanciano 1924, ecco si sentono i tuoni, le previsioni d'anno temporale fino a questa sera. C'è il direttore di gara, che ovviamente vuole iniziare la gara. Signore e signori ci rivediamo fra qualche minuto per le entrate in campo.